Non riesco ad escrivervi il fascino che quei luoghi esercitavano sul mio giovane animo. Siete ben giovane per essere un cabalista. Mi ordono di stare lontano da Napoli finché non si sarà sistemata una certa faccenda con la Santa Inquisizione. Allora mi farete l'onore di essere ospite del mio castello. Vi affido a lei. Io ho delle faccende urgenti da sbrigare. Signor Cavaliere, vi stavamo aspettando. Non siamo qui per caso. La nostra sorte è nelle vostre mani e il nostro viaggio è un segreto. Ma voi chi siete? Via! 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 Vi vedo molto abbattuto e temo la vostra anima. Ora mi appartenete. Via! 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 Via!